Mese di maggio, mese di Maria, un periodo a questo di grandi grazie, un mese di vocazione mariana, Barletta, un momento di profondo giubilo presso la Basilica del Santo Sepolcro, presidio nel tempo del Santo Legno della Croce del Cristo, una solenne celebrazione eucaristica accompagnata dalla benedizione delle insigni, immagini sacre. La Madonna del Dolore è posta così nella sua più naturale collocazione ai piedi della croce, una scelta che sa attenzionare il martirio nell'animo della mamma del pane. Lei la Vergine, figlia del figlio suo, vicino al Dio della Misericordia. Nella cappella dedicata all'insegna e reliquio del Santo Legno della Croce, per noi parrocchiani e barlettani è un momento di testimonianza e di fede profonda, perché sia il 14 settembre che il venerdì santo ci ritroviamo per adorare il legno della croce, dove Cristo ci salva e continua a salvarsi attraverso la sua misericordia e il suo perdono. Abbiamo voluto mettere la Madonna addolorata ai piedi della croce per rivivere un momento di fede profonda che la Madonna stessa ha vissuto ai piedi della croce sul Calvario. Una comunità in festa barletta, Assemblea Cristiana, che con i cuori sultanti ha accolto altresì l'immagine dell'Immacolata di Lourdes, accompagnata dalla Santa di Massabielle, Bernadette, la giovane dagli occhi limpidi, posta ai piedi della tutta bella. La Vergine di Lourdes, quindi l'Immacolata, era presso la cappella dell'insegna reliquide del Santo Legno della Croce. La comunità ha ritenuto opportuno dare una giusta collocazione, mettendo ai piedi anche Santa Bernadette. E di fatti una nuova composizione ci ritrova adesso a venerarla proprio attraverso una fede profonda. Tante volte poi ci ritroviamo, ma abbiamo l'11 febbraio, un momento particolare per venerare la Vergine Santa. Abbiamo voluto mettere alle spalle, attraverso la presenza anche del professor piccolo Angelo, un pannello tridimensionale di una grotta, bella, così si ritrova la Madonna con Santa Bernadette nella sua collocazione principale e originale. Grazie. 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 Grazie.